Ciao Mondo Cripto, io sono Dista, nel video di oggi andiamo a fare un breve tutorial per quanto riguarda la sezione di lending sull'exchange KuCoin, quindi come prestare le nostre criptovalute che magari deteniamo da tempo e vogliamo magari capitalizzare un po' e guadagnare qualche soldino in maniera semplice ma anche passiva. Se non siete ancora iscritti, questa è la pagina principale dove potete scrivervi tramite email o telefono e qui sotto inserire il referral link che troverete sotto il video per supportare il canale ma anche ricevere uno sconto sulle fees. Vi ricordo che sulla playlist del canale YouTube ho fatto molti tutorial per quanto riguarda l'exchange KuCoin, quindi come muovere i primi passi, ma ho fatto anche un tutorial completo qualche settimana fa, vi spiega per filo e per segno come muovere i primi passi. Vi lascerò tutti i link in descrizione per il tutorial completo. Questa è la schermata principale dell'exchange KuCoin. Cosa facciamo? Dobbiamo andare a cliccare nella sezione Earn e poi cliccare nella sezione Crypto Lending. Questa è la sezione dove andare a mettere a rendita i nostri fondi, le nostre cripto, quindi come prestare le nostre criptovalute. Io in questo tutorial vi farò un esempio anche perché fatto per una vale per tutte. Ora utilizziamo Iostit, ma vale anche per Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, ADA, Atom. Ma come potete vedere ci sono moltissime coin, ora se scendo ce ne sono più di 100, dove potete mettere a rendita le vostre coin e magari guadagnare qualcosina nel lungo termine. Questa è la schermata principale. Facciamo finta che utilizziamo USDT, che sarebbe una stable coin. Io ora scelgo, possiamo scegliere se andare a prendere i nostri fondi in percentuale, quindi scegliendo il 25% di 183 dollari, in questo caso il 50%, 75% o l'intero importo. Utilizziamo cifre tonde, mettiamo 50 dollari. Posso scegliere se prestare i miei fondi per 7, 14 o 28 giorni. Ovviamente per 7 giorni utilizzando USDT mi dice che ho un interest rate, quindi un priority rate, perché questo è il priority rate ottimale che mi dà l'exchange. Perché se io posso scegliere, posso metterlo anche più alto, però magari non mi viene fillato subito o i miei soldi non verranno mai prestati se magari metto il doppio. Quindi dobbiamo sempre cercare di utilizzare una percentuale abbastanza sensata, perché almeno così possiamo prestare i nostri fondi. Per 7 giorni, qua ci dice lo 0.025, ma poi voglio ricordarvi che l'interest rate cambia continuamente giorno per giorno, non è mai fisso ma è variabile. Qua ci dice lo 0.025, se lo mettiamo per 14 giorni lo 0.028, per 28 giorni 0.027. Facciamo finta che lo mettiamo per 0.027, utilizzando questo interest rate abbiamo al momento un quasi 10% annualizzato. Se io clicco qui, automaticamente qua mi dice per 50 dollari per un mese mi dà 0.34 dollari. Facciamo finta che adesso io clicco, facciamo l'end USDT, qua mi dice coin USDT, l'amount, poi abbiamo lì daily interest rate per 28 giorni e il profitto. Facciamo confirm, automaticamente i miei fondi quindi vanno in open order, perché vanno in open order? Perché non è stato ancora fillato, ci vuole qualche minuto per poter ovviamente farlo fillare, perché magari i miei fondi non vengono prestati subito. Una volta che verrà fillato, poi andrà nella sezione settle, quindi che è stato fillato e quindi i miei fondi sono automaticamente messi a rendita. Invece la sezione order history è la sezione dove troviamo tutti i nostri fondi messi in prestito. E questa è una sezione molto interessante, possiamo farlo per tutte le coin come già vi dicevo e cambiano sempre chiaramente gli interest rate. E possiamo utilizzare questa tecnica che vi ho spiegato per tutte le nostre coin. Ovviamente non si guadagna moltissimo, però è un modo semplice che tutti possiamo fare per mettere a rendita in maniera sicura i nostri fondi o le nostre cripto all'interno dell'account KuCoin. Poi c'è anche un'altra sezione interessante che si chiama Autoland. Cosa vuol dire Autoland? Che mette in automatico i fondi, i nostri fondi in prestito, quindi automaticamente senza che noi dobbiamo metterci mano. Questo è un modo che si può utilizzare se abbiamo una strategia precisa. Ovviamente dipende dalle strategie. Se io clicco Autoland, cosa significa? Vi spiego velocemente. Qui, adesso teniamo sempre a mente che io ho 183 dollari, quindi facciamo riferimento a quello che ho dentro. Poi dovete farlo in proporzione ovviamente al vostro account. Io, in questa sezione chiamata Reserved Amount, cosa significa? Che io devo inserire i fondi che non devono essere messi in prestito automaticamente. Cosa vuol dire? Che se su 183 dollari voglio che vengano sempre messi in prestito 83 dollari, vuol dire che 100 dollari non dovranno essere utilizzati. Automaticamente qua inserisco 100 dollari e la sezione Autoland mi prenderà sempre in prestito 83 dollari. Posso scegliere l'interest rate e qua cosa vi dice? Available funds, i fondi disponibili saranno automaticamente presi in prestito all'interest rate prioritario. Quindi gli 83 dollari. Ovviamente così funziona la sezione Autoland. È un modo semplice che non dobbiamo sempre metterci mano per mettere in prestito i nostri fondi. Questo vale per UST, ma vale per Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, per tutti questi 150 coins che la sezione Autoland ci mette a disposizione. Prima di terminare volevo spiegarvi anche la sezione My Landing molto velocemente. Se noi clicchiamo su My Landing vediamo proprio come funziona quindi tutta la panoramica, magari tutte le coin che abbiamo messo in prestito, perché magari ne abbiamo tante, qua possiamo vedere tutto lo storico, tutti i dettagli di tutte le coin che noi andiamo a mettere in prestito. E qua poi ci dice quanto asset abbiamo messo in prestito e quanto stiamo guadagnando. Questa è una torre di controllo molto interessante che si può utilizzare quando utilizziamo la sezione Crypto Lending. Prima di terminare volevo ricordarvi che se non avete ancora un account KuCoin potete iscrivervi col mio referral link sotto il video e inserirlo nella sezione Codice Referral. Qua vi lascerò anche il link per quanto riguarda il tutorial completo. Spero che sono stato chiaro ed esaustivo. Per qualsiasi domanda potete commentare sotto il video e vi aspetto al prossimo tutorial.